Avrebbe compiuto 26 anni fra qualche giorno Andrea Soligo, il giovane operaio che oggi ha perso la vita mentre stava lavorando. Era salito su una scala per effettuare degli interventi di manutenzione, quando ad un tratto è caduto da un'altezza di 4 metri. Un volo che non gli ha lasciato scampo. Andrea ha riportato gravi traumi al capo e al collo. Inmediato l'allarme è lanciato dagli altri dipendenti della ditta. Sul posto è giunta un'ambulanza. I sanitari hanno stabilizzato l'operaio per poi tentare una corsa disperata all'ospedale di Bassano. Andrea è morto durante il trasporto. E questo 2022 si apre con l'ennesimo infortunio mortale sul lavoro, lo sgomento dei colleghi, degli amici. Andrea da tempo lavorava presso la ditta Veneto Impianti Elettrici di Riese Pio X. In questi giorni stava operando a Tezze sul Brenta presso la Fenn Impianti. La tragedia questa mattina è intorno alle 10.40 in via Sole 72, zona industriale artigianale della frazione Belvedere. Andrea era sposato con Giorgia ed aveva due figli di 2 e 4 anni. Originario di Monte Belluna, aveva vissuto prima Riese Pio X, da qualche anno abitava con la famiglia Vedelago. La notizia ha subito fatto il giro del paese, lo sconcerto del sindaco Andretta. Una tragedia immensa che va ad aprire un nuovo anno dopo già un 2021 segnato dalle molte vittime sul lavoro. Non ci sono grandi parole, non ci sono grandi frasi, solo un grande sgomento, un enorme dispiacere per questa doppia tragedia. Da una parte un giovanissimo ragazzo, solo i 25 anni e anche un giovanissimo padre. Quindi le nostre più sincere condoglianze vanno alla moglie, ai due bambini piccoli e a tutti coloro che amavano Andrea. Sulla tragedia il nucleo spisa dell'US7 ha svolto accertamenti con i carabinieri di Rosà. La procura di Vicenza aprirà un'inchiesta e nelle prossime ore verrà conferito l'incarico di svolgere l'esame autoptico sulla salma del giovane.